Eccomi, sono Gabri Costa. Statevi a sentire ragazzi. In questo Jotart a Ruggerigia 4, Turtles in Time, c'è da vedere il cast, visto che abbiamo fatto la modalità difficile. Vi dico tutti i personaggi. Abbiamo Leonardo. Michelangelo. Donatello. Raffaello. April O'Neil e il maestro Splinter. Vi ho detto i protagonisti, ora dobbiamo dirvi i nemici. Food Soldier. Soldato ninja. Rod Kill Rodney. Pizza Monster. Marzer. Acchiappa topi. Robot Walker. Stone Warrior, guerriero di pietra. Ora c'è da dirvi i nomi dei boss. Baxter Stockman. La Mosca. Metaled, la tartaruga cibernetica. Metaled, la tartaruga cibernetica. Il lupo. Il lupo. Slash. Slash. La tartaruga perfida della dimensione X. Bebop. Bebop per Rocksteady. Cinghiale rinoceronte. Leatherhead, il coccodrillo. Crank. Cranker. Shredder. Super Shredder. bene, per oggi è tutto la recensione finisce qui ragazzi il mio video è finito vi ho detto il cast ricordatevi che questo gioco va completato in modalità difficile perché altrimenti non potete vedere il finale e il cast avete visto tutte insieme dicono Kawabanga le nostre tartarughe perché è un grido il segno di vittoria e lo faremo risuonare in tutto il mondo bene, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale